Buongiorno, risolviamo la seguente espressione. 5 terzi alla sesta per 5 terzi alla quinta diviso 5 terzi alla nona. Ora notiamo che la base, entro parentesi, le basi sono identiche, quindi possiamo riscrivere la stessa frazione 5 terzi e elevarla alla somma degli esponenti dove abbiamo appunto la moltiplicazione, alla differenza dove abbiamo la divisione, quindi avremo 6 più 5 meno 9. Di conseguenza otteniamo 5 terzi alla 6 più 5, 11, meno 9, 2. 5 terzi alla seconda. Eleviamo numeratore e denominatore alla seconda in modo da ottenere 25 noni, che è appunto il risultato. Bene, per il momento è tutto. Arrivederci al prossimo video.